Un furto in abitazione in località Chianacce nel Cortonese che poi si è concluso con una fuga terminata qui dove ci troviamo in questo momento. Qui però siamo già nel comune di Siena, nella provincia di Siena, nel comune di Monte Pulciano a ridosso proprio della direttissima Roma-Firenze. I ladri in tutto tre che hanno appunto cercato di portare a segno questo furto in abitazione sono stati avvistati dal proprietario di casa che li ha messi in fuga, poi sono stati avvisati i carabinieri. Una dei tre ladri è stata subito rintracciata, due invece appunto hanno guadagnato la fuga con un'automobile lasciata presumibilmente proprio dove ci troviamo in questo momento per poi appunto allontanarsi a piedi lungo i binari della direttissima. Il macchinista del treno che è sopraggiunto in quel momento ha sentito un boato, ha pensato di averli investiti, la linea è stata fermata ma dei ladri nessuna traccia quindi presumibilmente si sarebbe trattato di un falso allarme. I ladri hanno guadagnato la fuga, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Monte Pulciano e la direttissima come dicevamo è stata fermata quindi i convogli hanno subito dei forti ritardi. Una zona questa del Cortonese che confina appunto con la provincia di Siena molto battuta dai ladri come ci racconta anche un tabaccaio che circa un anno fa ha subito una rapina. Un tizio mi ha messo una pistola davanti alla faccia e mi ha detto dammi soldi, cosa che gli ho dato subito e poi se n'è andato. No qui io, poi lei lo vede, guarda la porta e è tutta mangiata a forza di provarci. Adesso sono pieno di telecamere, ho messo le sbarre alle porte, un po' mi sono salvato ma se no... Come ci si difende da questi attacchi? Niente, l'unica cosa è restare calmi, poi detta fra di noi mi hanno portato via 400 euro, non era una grande cifra ma l'assicurazione me l'ha ridata dopo quattro giorni. Le prendo per quello che succede, certo trovarsi lì per lì per un po' trema le gambe ma poi dopo passa.